Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi di questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi riguardo all'easy anti cheat su fortnite ovviamente con nuovi metodi e soprattutto anche chiedere assistenza ad epic games ovviamente come primo metodo andremo direttamente sui servizi del sistema eccoli qua scende fino a giù fino a trovare il servizio easy anti cheat eccolo qua tipo di avvio manuale ovviamente ci clicchi sopra se il tuo stato di servizio è su arrestato tu premi avvia una volta premuto su avvia allora il servizio easy anti cheat esce questo errore qua perché non c'è nessun programma che sta utilizzando questo servizio per questo quindi in questo caso quando vai ad avviare fortnite e stai nel gioco di fortnite avvia il servizio qua sopra ok lo avvia e tipo di avvio metti manuale e fai applica e fai ok se non dovesse funzionare chiudi qua vai direttamente sui tre puntini scende fino a giù fino a trovare i gestici la cartella portent game binaris 264 questo è l'esente cheat ci ricchi sopra esegui come amministratore se avvia per qualche secondo il prompt dei comandi torni indietro easy anti cheat trattino basso camo ed eccolo qua esegui come amministratore ed ecco il panel dell'easy anti cheat fai riparazione e poi finisci avvi fortnite se non funziona esegui come amministratore di nuovo easy anti cheat trattino basso camo fai disinstalla chiudi qua provi così ad avviare fortnite senza lazy anti cheat chiudi epic games riapri così epic games e torniamo direttamente nella cartella di fortnite gestisci la cartella portent game binaris 264 ed eccolo qua su trattino basso camo clicchi sopra e fai installa easy anti cheat e fai finisce se non dovesse funzionare torna indietro e cancella queste due cartelle cancelli così queste due cartelle ovviamente se vai ad avviare fortnite fortnite non si avvia perché tu le cartelle dell'easy anti cheat non ce li hai più quindi fai tre puntini gestisci e fai verifica una volta verificato così il gioco prova ad avviare fortnite se in questo caso non dovesse andare puoi sempre chiedere assistenza ad epic games ovviamente se tu fai una foto all'errore che ti è uscito sull'easy anti cheat tipo questo qua errore al lancio che l'easy anti cheat non è installato sicuramente ti dirà di reinstallare l'easy anti cheat nella cartella di fortnite quindi vai su google richiesa di assistenza torna un attimo indietro qua questa è la pagina del supporto di epic games ti ho lasciato in descrizione questo qua su aiuto vai su fortnite account scende fino a giù contattaci piattaforma pc portnet motivo per cui ci stai contattando tra l'altro e scrivi easy anti cheat non installato su fortnite come posso risolvere puoi mettere pure selezionare il file quindi prendo questa foto e la metto qua nel formato jpg quindi puoi mettere questa foto qua dentro a me non è in formato jpg niente più nge è un file wbp la metti qua e fai invia una richiesta per email ovviamente poi ti risponderanno per via email ti passeranno così anche un operatore quindi potrai anche chiedere a lui nella chat sull'email e potrai scrivere a lui tutti i tuoi problemi che stai riscontrando su fortnite e adesso non mi resta che avviare fortnite portnite a me si è avviato con l'easy anti cheat installato senza nessun problema per altri problemi scrivi sotto al video commenta se hai bisogno lascia like iscriviti al canale se questo video ti è stato utilissimo e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao